17 marzo 2018 Milano Roland Fischendhaler Roland Fischendhaler trionfa nello slalom parallelo di Winterberg Germania e con la seconda vittoria stagionale conquista anche la Coppa di Specialit la terza in carriera dopo quelle del 2013 e del 2016 Fischendhaler Fischendhaler si è anche piazzato secondo nella classifica generale del parallelo che somma i punti sia del gigante che dello slalom finendo per la settima volta in carriera tra i primi tre. Si tratta inoltre della quattordicesima vittoria in Coppa del Mondo per il campione di Funes a oltre 17 anni dal suo primo podio in carriera. Nella gara Orna Fischendhaler abbattuto in ordine Daniele Bagozza, Aaron March, Maurizio Bormolini e in finale Sebastian Kieslinger. Per quanto riguarda la stagione corrente, si tratta del quarto podio dopo il primo e il secondo posto di Cortina rispettivamente nello slalom parallelo e nel gigante parallelo a dicembre, e della terza posizione nel gigante parallelo di Rogla del 21 gennaio. Questa la Coppa più bella spiega l'Alpino di Funes, per cero entro tanti punti ma sono riuscito a recuperare usando bene il cervello. Sono contentissimo, volevo mostrareci che sono capace di fare in allenamento e ci sono riuscito. Sapevo che c'era una chance reale di vincere la Coppa, ma non ci ho mai pensato, piuttosto sono rimasto concentrato su me stesso. E avere battuto un giovane come Dimitri Loghinov che ha esattamente 20 anni meno di me una grande soddisfazione. A 38 anni riesco a competere ancora con i giovani, adesso ho tre coppe in bacheca posso regalarne una a ognuno dei miei figli. Gli obiettivi per il futuro rimangono importanti, ho trovato grande sicurezza con la nuova attrezzatura, grazie alla quale mi sto divertendo molto, le curve escono facili e continuer a gareggiare Perch mi diverto. Certamente c'è qualche acciacco fisico, ma fino a quando rimangono questi riesco a conviverci, grazie anche alla bravura del nostro staff. Voglio sottolineare il fatto che la nostra squadra era presente con sei elementi nella fase finale, ci siamo confermati i più forti nel parallelo. I mondiali 2019 negli Stati Uniti saranno il prossimo obiettivo, L ci saranno altre due medaglie in palio in slalome gigante da conquistare. La stagione non ancora finita, settimana prossima vado a fare Coppa Europa in Slovenia e Svizzera per testare materiale, poi poter pensare a fare il padre di famiglia per qualche tempo. Azzurri, altri italiani si sono ben comportati nel corso della gara tedesca. Maurizio Bormolini in particolare finito ai piedi del podio perdendo la small final contro Rock Marguk. Poi Mirko Felicetti che ha chiuso 5, precedendo di due posizioni Aaron Marsh. Eliminati ai quarti di finale invece Edwin Coratti e Daniele Bagozza, mentre Christoph Mika ha finito sedicesimo e Marco Ferre trentanovesimo. Per lo snowboard azzurro il 26 podio in stagione eguagliando la stagione 2001-2002.